ciao a tutti amiche ed amici benvenuti bentrovati per un nuovo video allora onestamente voi avrete già letto il titolo ma io non ho la più pallida idea di che cosa vedremo oggi intanto cominciamo con una lettura nella quale vi chiedo intanto di pensare ad una persona per la quale desiderate con un chiarimento una risposta non un chiarimento con quella persona un chiarimento attraverso diciamo con questa lettura preghiera ovviamente di prendere solamente ciò che vi risuona rilasciare tutto il resto e per chi sente o si sente particolarmente toccato da questa lettura eventualmente in base ovviamente a quello che arriverà valutate l'idea di fare un consulto personale che al 98 per cento dei casi è risolutivo dice perché il 2 per cento non è risolutivo perché contro la vostra volontà non ci va nessuno esiste il liber arbitrio ovviamente va bene allora benvenuti a tutti quanti benvenuti ai nuovi iscritti e gli iscritti di ritorno grazie a i valorosissimi abbonati anzi con l'occasione vi ricordo per quanto riguarda gli amici che intendono intraprendere il percorso equanimico sono ovviamente con una situazione sentimentale di fiamme gemelle oppure semplicemente sanno di non esserlo ma che si vogliono impegnare per un percorso ecco di risveglio personale in questo senso ecco di chiamiamo l'attivazione di una coscienza se si può dire così bene eventualmente sappiate che noi proseguiremo il lavoro che abbiamo già iniziato con gli abbonati ci sposteremo da diciamo ecco dai contenuti per abbonati a un gruppo chiuso che già esiste si chiama andromeda quindi per chi fosse interessato contattatemi tramite whatsapp ovviamente ecco vi darò a tutti quanti quelle che sono le informazioni e diciamo ecco ci avvieremo a proseguire il lavoro che abbiamo iniziato qui da quella parte che è sicuramente con più funzionale anche perché ho notato che siamo già arrivati a per lo meno qui su youtube a aspettate che ve lo dico quasi un centinaio di post ok quindi cosa significa post video e compagnia cantante tra letture post video e compagnia cantante tutta tutta una serie di contenuti capite bene che anche a voler scrollare dal momento che si deve andare c'è una certa propedeuticità si deve andare dal primo e poi andare avanti seguendo il percorso intanto chi entra adesso sicuramente diciamo ecco non riesce a colmare questo gap quindi eventualmente per gli altri quando avrò la possibilità si farà come dire ecco una una nuova tornata diciamo in questo senso no o se siete armati di buona volontà datevi una mossa immediatamente in maniera tale che potete colmare questo gap intanto questo gap colmatelo ripeto tramite la sezione per ora abbonati per ora abbonati dopodiché con il gruppo andromeda vi dirò io quando è che sarà attivato il gruppo allora dai iniziamo subito queste erano delle informazioni semplicemente ecco necessarie per chi ha bisogno in tal senso di x aggiornamenti vale dal momento in cui voi lo vedete non dal momento in qui l'ho posto quindi anche se mi vedete in modalità natalizia capite bene che cioè vale sempre finché sul canale sia per gli uomini che per le donne sia che voi siate etero che arcobaleno vediamo un po cosa vi vogliono dire oggi le carte spero che tu abbia già pensato e ti sia concentrata su questa persona escono già due carte ok qui abbiamo una soluzione la ricerca di una soluzione relativamente a una situazione un po ingarbugliata direi quantomeno no una situazione nella quale non si può parlare di una vera e propria chiusura anzi direi che la situazione resta aperta resta aperta ma con le maglie talmente larghe che non si direbbe che siete vicini siete come dire qua all'interno di questo labirinto anche con la impossibilità di potervi incontrare evidentemente in questo momento almeno finché ecco non si trova una soluzione oppure si trova l'uscita o il pezzo mancante come dire ecco del puzzle penso che in questo caso possiamo parlare di imboccare la strada giusta per venire fuori da questo labirinto come se vi foste incartati in un percorso a proposito di percorsi va bene io vi ricordo che se dovesse essere una lettura che riguarda anche le fiamme gemelle io nel titolo vi metterò i simboli fiamma cuore rosso fiamma stella allora vediamo un po' come stanno le cose in questo momento con questa persona che tu stai pensando qui abbiamo la luna e come stanno le cose beh la luna non è una carta negativa ma non è neanche una carta positiva diciamo che qua come dire ecco è una situazione che possiamo considerare da parte di entrambi tutto sommato di belle speranze non possiamo dire totalmente chiusa ma quindi c'è una speranza anche se fosse chiusa o non lo è comunque in cuor vostro da parte tua abbiamo qua i pesci direi che sicuramente tu dai ossigeno in questo senso mentalmente al pensiero di questa persona direi che per te probabilmente ci sono delle situazioni che riguardano questa persona su aspetti che sono pecuniari nel senso o potrebbe darsi che ci sono state di mezzo delle questioni riguardo a dei soldi o delle cose proprio materiali sembra che tu a questa cosa in qualche modo ecco ci pensi potrebbe significare o che questa persona è stata estremamente generosa con te o assai più probabilmente che tu sei stata estremamente generosa con questa persona vediamo lui in testa che cosa porta eccolo qua il signore del labirinto quindi questo tiene la testa come dire ecco un po' un rebus diciamo che è proprio un rebus direi che forse dipende più da lui l'essere in qualche modo ecco sia aperto ma allo stesso tempo molto complicato quindi potremmo dire che da un punto di vista diciamo ecco almeno logico questa non è una persona se tu ti aspetti che sia veramente logica con una come posso dire coerenza potrebbe essere per esempio una persona innamorata folle di te ma allo stesso tempo comportarsi come un emblematico ci siamo capiti non si possono dire le parolacce allora ok quindi vediamo un po' come stanno le cose appunto dal punto di vista sentimentale da parte tua ah tu sei invece la signora delle soluzioni guarda un po' sono uscite le carte di prima e dire che ce ne sono anche tante o perlomeno a te manca un pezzo mancante in questo labirinto o forse sei tu che più che altro vuoi capire se questa persona come dire ecco ti ha considerato una possibilità magari per venire fuori da una sua situazione ingarbugliata oppure attenzione vuoi capire se questa persona effettivamente provava dei sentimenti per te o prova dei sentimenti per te ok potrebbe anche significare per qualcuno di voi perché siete tanti che in qualche modo ecco tu la vuoi trovare una diciamo ecco una soluzione in una direzione o in un'altra o di dimenticarti questa persona oppure di recuperare il rapporto potrebbe anche significare questo ma comunque ecco una via d'uscita rispetto a qualcosa che la consideri come una strada una strada una porta chiusa per ora che non ti fa andare avanti ok sentimentalmente questa persona arriva con la falce ammappete allora diciamo che è come se questa persona rispetto almeno a te diciamo ecco non sta provando dei sentimenti in questo momento questa persona non si può dire che ha tagliato ha messo un punto ha detto fine ha detto proprio fine o perlomeno il suo cuore per ora non prova dei sentimenti questo lo devi lo devi sapere quando c'è questa carta significa che in qualche modo questa persona diciamo ecco si è fatta i suoi conti i suoi conti sentimentali cioè come se avesse detto no per esempio se lei si fa risentire io ecco mentalmente resto aperto tutto sommato no se lei si fa risentire se lei come dire ecco fa quello che dico io no allora posso anche prendere in considerazione la cosa poteva prendere in considerazione la cosa oggi sembra che sentimentalmente non la prende in considerazione perché sembra che da parte sua abbia messo un punto quindi se tu oggi ti stai chiedendo questa persona se provava i sentimenti per te probabilmente sì perché qua dice che sono terminati questi sentimenti se te lo chiedi se li prova ancora oggi sembrerebbe che non prova in questo senso un afflato sentimentale nei tuoi confronti anche se questo aspetto comunque cercheremo di approfondirlo vediamo cosa porti tu nel rapporto anche lì dove il rapporto diciamo in teoria non c'è allora cosa porti tu qui abbiamo il sole la felicità ok diciamo che sicuramente tu sei la persona più positiva all'interno di questa di questa accoppiata sembra che sembri tu la persona in questo senso più forte vediamo questa persona qui cosa porta nel rapporto cioè sembra che secondo quello che dicono le carte che dipenda anche da te il successo alla felicità vediamo cosa esce per lui cosa porta lui nel rapporto comunque questa non è una carta brutta perché parla di protezione quindi probabilmente questa persona è andata in modalità protezione l'orsa è una carta abbastanza particolare parla in qualche modo anche di clan di famiglia di gruppo mettiamola così cioè diciamo che intanto l'osso che sia un osso come si chiamano? gli orsi dei boschi così come potrebbe essere anche un orsa polare come potrebbe essere anche un fantastico panda per dire che sempre orsetti sono qual è il punto? che questa persona potrebbe essere dolce e coccolosa giusto? però se in qualche modo ecco si sente minacciata su un qualche aria soprattutto dal punto di vista emotivo o perché brama delle cose quindi è particolarmente ecco affamata e sente una certa ostilità ovviamente gli orsi passano da Teddy Beer praticamente passano praticamente a killer ok? e quindi questa persona potrebbe potrebbe essere passata in modalità protettiva anche probabilmente per evitare che sente quella mancanza o magari sente una certa sentita una certa ostilità quindi si è molto allontanata raffreddata isolata sai quando si dice c'è proprio quel modo di dire no? un carattere un po' orso quindi una persona che tende a isolarsi ma anche a isolarti fai conto insomma che questa persona ripeto è passata proprio in modalità protettiva ecco perché gli ha messo un punto mentalmente aperta dice vabbè ok non la considero come dire che non ci penso più però penso anche ad altre cose allora andiamo a vedere se ci potesse essere un chiarimento oggi tra voi di che cosa si dovrebbe parlare o cosa si dovrebbe chiarire ok da parte tua aspetta vediamo cosa arriva da parte sua interessante direi guarda sempre sempre qui arriva come dire ecco la questione se ci sono i sentimenti o se non ci sono i sentimenti non stiamo parlando più di amore in questo caso stiamo parlando sai di cosa qualcosa che si dovrebbe mettere in chiaro ma già è remerso prima per quanto ti riguarda cioè come posso dire cioè se c'è come dire ecco un sentimento che è amicizia per esempio no oppure se era un sentimento o se sarebbe un sentimento come dire romantico no cioè se c'è un corteggiamento in questo senso un senso come dire ecco di generosità perché ma effettivamente quando ci sono i sentimenti di mezzo c'è di mezzo la generosità è proprio lì che si esprime il fatto la differenza tra un'amicizia anche con gli amici si è generosi ma ovviamente è chiaro che ci sono rapporti privilegiati che appunto sono quelli legati all'amore no e alla famiglia anche l'amore rispetto alla famiglia è privilegiato giusto e quindi evidentemente qui c'è stato qualcosa che evidentemente ha fatto un po' tilt rispetto a aspetti dice ma se uno vuole bene ci vuole un mazzo di fiori per il compleanno faccio un esempio no perlomeno ci vuole un gesto che manifesta questo voler bene da parte di questa persona non si capisce bene qui se come dire ecco ci possono essere stati di mezzo altre persone o magari stanno forse lui pensa che tu abbia a che fare con altre persone o si sono messe di mezzo altre persone non sono carte che dicono c'è un'altra donna sono carte che dicono c'è qualcun altro fra noi due chi è diciamo lui chi è come mai l'hai portato con te il suo nome il suo ruolo mi spieghi qual è diceva Renato Zero no non è un vero e proprio triangolo più che altro quello che mi arriva è che come se si dovesse chiarire tra voi due un aspetto forse io non sono una persona giusta per te a te serve una persona con queste caratteristiche una persona diversa da me totalmente diversa se io mi sento estraneo al tipo di persona che può renderti felice ok qui abbiamo il prossimo passo di questo rapporto porta alla dimensione in questo senso della volpe quindi direi ancora una volta che non è affatto chiusa la questione anche se sentimentalmente questa persona sembra averci messo un punto o aver tirato una linea dice quello che è stato è stato la volpe significa che comunque si vuole cogliere un'opportunità significa che l'interesse c'è significa anche essere sempre in modalità protezione quindi questa modalità protezione riguarderà entrambi con l'unica differenza come dire che c'è un stare sulle tracce ok questa è una difensiva totale un isolarsi questo invece è un esporsi legato però anche sempre ripeto a una modalità protettiva eventualmente a svignarsela se dovesse servire quindi a essere un po' furbi a essere un po' scaltri rispetto magari alla genuinità con la quale magari ci siete entrati o ci sei entrata tu diciamo inizialmente o prima di questo momento in questo rapporto in questa relazione allora cerchiamo di capire con delle altre carte faccio un taglio del mazzo adesso voglio capire una cosa ok va bene è un aspetto dove dobbiamo adesso indirizzarci riguarda come dire la longevità del rapporto rispetto al fatto che ci sono degli ostacoli quindi potrebbe significare che ci sono effettivamente dei problemi ci sono effettivamente degli ostacoli che impediscono al rapporto in qualche modo di prendere radici di come dire ecco essere stabili di avere quella stabilità e di avere anche che ci siano i presupposti per una durata nel tempo ok in questo senso allora volevo un attimino un po' capire attraverso queste carte un nanosecondo aspettate che le prendo qualcosa che finora non abbiamo visto le sto prendendo le carte abbiate pazienza ok spero che non ci tofoli nessuno perché adesso gli ostacoli me li sono messi in mezzo ai piedi aspettate eh stanno arrivando eccola l'ultima carta era rimasta impigliata sapete io vado a braccio in base a quello che vedo poi scelgo le carte che ritengo più opportune anche in base a ciò che mi ispira in un x momento allora voglio un attimino capire questa persona passato presente e evoluzioni possibili vediamo un po' con questi oracoli d'amore cosa arriva qui passato qui abbiamo delle intemperanze quindi questo intanto abbiamo l'incredibile Hulk significa che questo proprio benissimo direi che non si è comportato perdono quindi in passato evidentemente qua sono successe delle cose tra voi due per cui comunque non c'è stata abbastanza generosità sicuramente da parte tua o per perdonare questa persona oppure questa persona diciamo non ha accettato qualcosa di te che l'ha considerata da parte tua un'intemperanza e dice ma vai a quel paese quindi non ti ha perdonato lui più che altro diciamo non vi siete perdonati a vicenda perché magari ve le siete dette o fatte di santa ragione tutte e due sempre passato qualcosa legato a delle cattive intenzioni quindi cattive intenzioni che tu saprai bene se sono state effettivamente vissute millantate sospettate perché si vede che siete andati comunque in modalità sicuramente questa persona in modalità protettiva non significa che eri tu cattive intenzioni magari le ha millantate lui le cattive intenzioni su di te allora vediamo un po' al presente come stanno le cose ok arrivano tre carte arrivano tre carte che sono volute uscire tutte e tre abbiamo un narcisista è sempre lo stesso e poi vuole essere iniziato direi che queste carte parlano molto chiaro di chi in qualche modo a dire la verità aveva un po' delle brutte intenzioni ma io non è che posso giudicare brutte intenzioni irreali oppure ripeto non è un mio giudizio in questo senso il problema è questo qui il narcisista ha una struttura infantile come il bambino che capitalizza tutte le attenzioni della famiglia della mamma perché ha bisogno della mamma in tutto e per tutto per il cambio per mangiare per il freddo per essere lavato in tutto e per tutto il narcisista è un po' così è una struttura come dire veramente molto 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 infantile cioè veramente infantile a livello dei primi mesi di vita in questo senso come se anche per camminare non cammina e deve essere portato da qualche parte pure dalla mamma spieghiamoci quindi neanche gattona la dovete considerare così la personalità narcisista e quindi probabilmente qua è sempre lo stesso nel senso che forse tu pensavi che cambiasse forse ce l'avevi in mezza idea di questa persona che poteva essere narcisista però questo non è cambiato anzi tra l'altro si lamenta come quando i bambini si mettono a strillare a piangere ma non per dei bisogni primari diciamo ecco ben oltre questo perché vuole essere viziato sono come quei bambini che sono piccolini che amano stare diciamo ecco tutto il giorno in braccio alla mamma e la mamma non può fare niente tutto il giorno perché se no questo bambino si mette a strillare perché vuole stare tutto il tempo in braccio quindi la mamma non si può manco fare la doccia per dirti e anzi il tempo che si fa la doccia magari lascia il bambino per dire al partner e comunque questo bambino non si tranquillizza e comincia a strillare succede succede quindi qualcuno che in qualche modo è come dire dominante perché se no non la smette di strillare qua abbiamo è sempre lo stesso vediamo un po' qual è il potenziale abbiamo un attimo capito che tipo di problema poi di fondo ci può essere stato tra voi due vediamo un po' che potenziale ci potrebbe essere adesso tanto narcisist ormai è uscito bene proprio andiamo di male in peggio qui ok oh guarda un po' qui abbiamo un colpo di scena intanto a fondo mazzo arriva questa carta come dire ecco della crisi come dire ecco lì dove c'è stata vedi una situazione come dicono le carte no questo è un ex molto egoica cioè pensare solo al proprio punto di vista essere andati proprio sulla difensiva diciamo che la cosa adesso va un attimino ad addolcirsi quindi è come se su questa crisi che c'è stata tra voi si potesse in qualche modo rimettere in discussione ciò che è stato detto e ciò che è stato fatto con una giustizia mettendo tutto sui piatti della bilancia il potenziale qual è diciamo che questa persona non ti ha perso di vista qui abbiamo lo stalker per qualcuno può significare che questa persona diciamo ecco fa l'indifferente però terrorizza sempre intorno tutto sommato no o come può darsi anche questa persona in qualche modo eserciti una certa pressione nei tuoi confronti quasi a volerti far sentire in colpa per esempio per qualcuno si può trattare effettivamente di un rapporto animico dove in questo caso ciò che noi stiamo considerando qui narcisismo in realtà non è un vero e proprio narcisismo come dire ecco patologico ma è quella struttura narcisistica che è legata alla sopravvivenza dell'ego in questo caso va bene quindi come dire ecco stanno a maturare i tempi divini quindi tempo al tempo studiate lavorate ok che la situazione come dire ecco ha il potenziale di andarsi a sbloccare che è un po' la chiave che avevamo visto qui nella parte tua se ti ricordi qui spero che si veda ancora che c'entri nell'inquadratura vedete che c'era la chiave ok quindi si può andare in una situazione legata a delle circostanze a uno sblocco insomma ecco tra tra voi due allora vediamo un po' di capire intanto qualcosa ecco legato a questa carta che era l'aspetto legato ai sentimenti di questo qui vediamo vediamo questo che ci passa per la testa se riusciamo in qualche modo a capirlo con queste carte vediamo un po' di che cosa parla questa falce rispetto ai sentimenti ok non riesco ad aprirmi quindi abbiamo qualcuno che non riesce a parlare dei suoi sentimenti può darsi che non riesco ad aprirmi significa che lui ha smesso di parlare dei suoi sentimenti con te ma anche perché tu non hai parlato dei tuoi sentimenti con lui potrebbe significare capirai bene tu qui in che ruolo ti trovi che uno dei due parlava del io sento io provo e a te ci tengo tu sei tutta la mia vita che so cose comunque che magari a te possono essere sembrate un po' too much per esempio a fronte del fatto che poi dice caspita non è che magari questo mi dice tutte queste cose perché poi sono sempre io che faccio i sacrifici sono io che investo molto nel rapporto e lui basta con due parole ha assolto ai suoi doveri ne stiamo parlando in questo periodo proprio nel percorso che stiamo facendo con gli amici sostenitori e abbonati che sono impegnati in un rapporto animico mentre per quanto riguarda ecco l'altra parte quindi o il gemello o la fronte parte a prescindere cioè la persona che stai pensando o lui o tu dice aspetto un attimo dice ma io l'altro cioè il punto di vista dell'altro potrebbe essere eh ok uno esprime sentimenti e l'altro esprime dice eh però tu dovresti fare cioè è come se in una coppia uno è più logico e l'altro è più emotivo uno dice eh ha delle carenze rispetto ai sentimenti dichiarati ok eh per cui si va in modalità protezione e l'altro invece non ha problemi a dichiarare i propri sentimenti però poi eh non fa quelle cose come dire ecco eh non fa quelle cose no quelle che d'altra parte ritiene essere doverose perché ci sia una lettura del bene quindi è come se parlate due lingue diverse uno parla le lingue con la bocca letteralmente e l'altro parla la lingua dei fatti quindi è come se eh come dire ecco eh tu magari che ti posso dire uno dei due non dico tu uno dei due si fa carico eh di x cose eh e l'altro non se ne fa carico niente niente e l'altro invece e quell'altro invece parla di emotività io eh io ti voglio bene tutte queste cose così però poi vedi che non apparecchia manco la tavola per dire no e invece magari tu apparecchi la tavola uno dei due apparecchia la tavola però non dice mai ti voglio bene ci siamo magari tu fai un buon pollo che per te significa ti voglio bene ci siamo quindi parlate proprio una lingua diversa non riuscirsi ad aprire non riuscire ad aprire non riuscire ad aprirsi emotivamente ok quindi capirai se è lui che non si apre o se sei tu che non ti apri che non spieghi i tuoi sentimenti o non li hai spiegati quindi questa chiusura riguarda anche il fatto che siccome questa persona è arrivata a un punto di avere un'ossessione per te in realtà ci vuole mettere il punto proprio per questo motivo dice che se no vi esco pazzo e infine non sono disponibile ora puoi aspettarmi quindi questo non sono disponibile può anche significare che eventualmente ormai questa persona o è passato del tempo sono successe delle cose diciamo ecco non può rientrare nell'immediato diciamo ecco eventualmente nel rapporto quindi ecco quando vedevamo qui questa carta che parla anche di tempi divini vediamo un po' questa soluzione che si vedeva qui di che cosa parla di cosa parla allora le mie scuse sono interessate ok questa persona avrebbe dovuto chiederti scusa per delle cose però diciamoci la verità anche se ti avesse chiesto scusa è come se tu pensassi che quando ti chiede scusa te lo chiede per un secondo fine non perché è veramente sincero quindi anche lì dove questa persona dichiara x sentimenti l'altro non gli crede dice lo fa per interesse dice perché appena mi dichiara i sentimenti io prendo e tutte le sere lo invito a cena o si viene a guardare tutte le partite di calcio a casa mia perché io pago l'abbonamento ovviamente ti sto facendo un esempio no ok sto cercando di mantenere ecco la calma ecco questa persona per te capita succede nelle relazioni è così è la verità diciamo ecco arrivi a un punto in cui vedi queste differenze e la persona ti fa venire nervoso no e quindi ti innervosisce magari proprio quando finisce quella bolla di amore e quindi uno va in modalità protezione per mantenere la calma anche per evitare troppi troppi litigi tutto sommato guarda io volevo dare un'occhiata a questi oracoli vediamo un po' in musica di cosa parlano di cosa parla la vostra relazione allora pandemonium no vabbè pandemonium non so se vi ricordate questa canzone ora veramente prendetevi i fazzoletti perché sicuramente piangerete da ridere o piangerete punto perché comunque fa piangere sta canzone ovviamente sono sarcastica certe volte mi chiedo se sto sognando possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita io una persona così insignificante vicino a te che sembri una stella tu fai schifo sempre da mattina sera tu si tu si nu guai ah ok poi vabbè c'è i puntini puntini tu si nu guai ma perché non muore mai vabbè avete capito se non la conoscete questa canzone è quella di pandemonium ecco direi che vi siete non dico sbolognati vi siete detti fate schifo vi siete proprio disprezzati vi siete proprio disprezzati in questo momento diciamo l'emozione che lega il rapporto cioè quello il collante che avete è proprio il disprezzo beh a questo punto andiamo a vedere anche quali altre emozioni ci stanno in mezzo per ora dai vediamo un po' vediamo un po' guarda quante emozioni vediamo le tue nei suoi confronti escono queste carte la frustrazione sicuramente poi la tristezza mattutina il malumore svegliarsi di cattivo umore no perché perché la malinconia no la tristezza la malinconia perché quella persona non c'è uscita dalla tua vita invece magari appena iniziava la giornata pensava caspita mi devo organizzare per incontrarci per fare questo insieme tutti gli impegni legati alla vita che hai insieme ad una persona no e poi anche questo riguarda te il sentirsi incompleti in assenza della persona amata e la fissazione con cui si contempla l'estasi che seguirà la riunione tanto attesa vediamo le emozioni di questo qui vediamo le emozioni di questo qui ok ah questa persona si sente presa di mira perseguitato quindi come se perseguitato diciamo ecco è un parolone nel senso che è come se tu avessi da ridire molto su tutto quello che fa quindi tutto quello che fa per te non va bene no anche il desiderio di scomparire questa persona in certi momenti mentre tu prendi la mira e lo vuoi colpire questo vuole scomparire perché evidentemente quando dici delle cose magari proprio fai centro e magari rispetto a questo centro potrebbe essere un runner questo qui infatti lui è diffidente si trova si trova a disagio si trova a disagio scusate prendo qualcos'altro no ok trepidante attesa di ricevere risposta che un messaggio sia visualizzato di un post stories di un like ok diciamo che questa persona sta aspettando qualcosa devi capire questo tu che questa persona sta aspettando sta aspettando qualcosa che riguarda te che cosa aspetta questo qua è diffidente non si muove non viene nella tua direzione per lui praticamente è chiusa per quello che vi siete detti e per quello che avete fatto o per come sono andate tutto sommato le cose va bene dai io prendo queste carte qui a questo punto vediamo un po' che risposte ci arrivano da queste carte però volevo prendere anche gli emblemi sacri perché sono molto precise e taglienti queste carte oracolari vediamo un po' cosa ci arriva qui aspettate che le prendo tutte ok allora vediamo vediamo un po' cioè direi che non state bene emotivamente reciprocamente questa persona si sente si sente male si sente male ha associato al vostro rapporto alla vostra relazione tutta una serie di emozioni negative allora l'umiltà è il problema che questa persona come dire ecco è un po' prepotente no quindi gli manca quell'umiltà ha sempre ragione lui oppure si vittimizza diciamo che sta facendo una sorta di test a chi resiste di più è convinto che in qualche modo qualcuno cederà o se uno non cede come dire ecco evidentemente non ne vale la pena perché questa persona nel vittimizzarsi direi che non si sta mettendo molto in discussione non si sta mettendo molto in discussione magari ecco veramente queste intemperanze queste cose questa cosa ce l'ha un'immaturità di base un'immaturità narcisistica egoica quindi anziché come dire ecco mettersi in discussione è cambiare quegli atteggiamenti quei modi di fare come anche tu che possono essere necessari e normalmente sono necessari per andare d'accordo per stare bene insieme non abbia intenzione di cambiare proprio un bel niente questa persona è come se lui dicesse la persona giusta per me come se fosse un paio di scarpe della sua misura non ha capito che si prendono le misure per adattarsi l'una all'altra di volta in volta proprio questo è il principale problema che c'è non solo tra voi due questo problema questa persona ce l'avrebbe comunque con chiunque viaggio ok è come se anche questa persona ha un cuore zingaro avete presente no la canzone il cuore è uno zingaro e va il cuore è uno zingaro significa come dire ecco che è una persona che ha difficoltà a legarsi a creare dei legami fondamentalmente ecco il motivo o perlomeno potrebbe avere nel suo bagaglio esistenziale proprio questo essere zingaro dal punto di vista affettivo dice perché può essere che è una persona che i genitori potrebbero essere separati o se anche non erano separati ti faccio un esempio magari il papà lavorava fuori la mamma anche lei lavorava tutto il giorno fuori casa e magari viveva una volta con la nonna una volta stava con lo zio con la zia insomma una persona che era un po' un bagaglio ok un bagaglio che dovevano spastare finché questa persona non è stata in grado in qualche modo ecco di di passare magari tutta la giornata fuori casa ok e di rientrare semplicemente la sera allora che doveva andare a dormire quindi la cosa un po' vissuta così quindi finché aveva bisogno di chiamiamo le cure ok era affidato a terzi terzi che ripeto occasionali e quindi magari questa è una persona che si è sentita anche un peso una valigia da scaricare un pacco da scaricare poi magari ecco anche il dove per esempio questa persona ha avuto una vita affettiva probabilmente potrebbe essere qualcuno che vive in un'altra città lavora in un'altra città o per motivi cioè c'è una distanza qualcosa legata a un viaggio per cui con la scusa diciamo ecco del viaggio non si vive la quotidianità ci siamo e quindi sì questa persona crea dei legami ma non sono legami legati alla quotidianità è come quando uno ha che ti posso dire ti faccio un esempio 100.000 euro in banca però non li sta utilizzando dice so però che ce li ho li vive così un po' no? so che ce li ho allora una cosa che devi sapere una cosa che tu devi devi sapere ops mamma mia allora allora una cosa che devi sapere è questa qui abbiamo la carta della strega buona quindi ci sono delle influenze positive potremmo considerarle divine se siete in un rapporto animico per esempio no? oppure semplicemente come dire ecco c'è una fortunata congiunzione astrale e qui abbiamo ecco vedi una forza magica però non dovete considerarla in senso come posso dirti no? che c'è la strega del baccalà ok? o la maghetta di quartiere non in questo senso no? diciamo ecco come quando tra due persone si crea quella magia come se in qualche modo voi comunque vi state ecco manifestando per la rinascita diciamo ecco del rapporto per un rapporto che comunque rinasce ma sotto un'altra un'altra nodi con un'altra forma come posso dirti generosa ma allo stesso tempo con l'interdipendenza potremmo dire che un amore più maturo che può questo è quello che devi sapere quindi se per degli aspetti tu continua a nutrire una speranza nei confronti di questa persona fai conto che le carte non è che ti stanno scoraggiando ti stanno incoraggiando però fai conto anche che c'è da molto ecco da da fare una lavatrice quasi no? è una persona complicata su questo come si può dire ecco non ci piove vediamo un po' cosa ti dicono questi oracoli diciamo oltre le apparenze oltre le apparenze imbarazzo ok di mezzo c'è anche dell'imbarazzo come mai c'è questo imbarazzo allora perché non ci c'è intanto un bel po' di testardaggine questa competizione come a dire se non lo fa lei io non lo faccio questa sorta di braccio di ferro a raggiungere un compromesso come ti dicevo prima questa persona non vuole esporsi però questa cosa cambierà eh qua c'è un amore eterno quindi come ti dicevo ecco potreste essere in un rapporto animico o se non è un rapporto animico magari siete anime gemelle e avete litigato comunque ecco è un amore come dire ecco eterno c'è un patto animico probabilmente ecco tra di voi prendete l'occhio un attimino per capire un pelino meglio come stanno le cose allora prendiamo dei tarocchi natalizi che dite no prendiamo questi qua oggi prendiamo questi qui allora allora testa cuore azioni vediamo un po' cosa dicono queste carte parlo di lui eh sto parlando di lui addirittura abbiamo il 2 di spade la situazione sembra essere come dire ecco inghiottita sprofondata nelle sabbie mobili quindi dice lì ci sono le sabbie mobili boh neanche sembrano sabbie mobili quindi risucchiata sparita non esiste più sembra proprio che ci sia qualcosa di questo tipo guarda mentalmente o dal punto di vista ecologico diciamo che questa persona è come se mettesse un vincolo e proprio dice questo questa persona se questa persona dice mi ama e mi vuole bene è quel bambino quel bambino che è stato trattato come una valigia come un pacco che parla e se la sta pensando così dice se questa persona mi vuole bene verrà da me sicuramente ecco mi viene a cercare sicuramente questa persona come dire ecco non si accontenterà come dire ecco non vorrà rimanere con le cose intentate quindi se così come si vede da parte tua non c'è stato un inseguimento ecco fai conto del motivo per cui questa persona sentimentalmente ritiene che è chiusa è perché appunto da parte tua probabilmente questo inseguimento non c'è stato però in fondo è come se ci sperasse ancora che in concreto questa cosa possa accadere quindi ma non è diciamo ecco un qualcosa è collegato a vuole fare effettivamente diciamo ecco lo stron zon 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 non per quello diciamo che è una sua insicurezza è un'insicurezza che ha questa persona proprio perché il suo background affettivo è per carità potrebbe essere anche il tuo io sto vedendo lui ecco vi va a dire che non è abbastanza importante perché qualcuno si possa prendere cura di lui e dedicarsi totalmente a lui no diciamo che i sentimenti che prova per te in questo momento potremmo anche dire che li sta nascondendo a se stesso a dire il vero cioè perlomeno non lo sa nessuno cosa prova davvero o perlomeno cosa prova davvero lui lo sa però è un segreto questa cosa la tiene come dire ecco sepolta sotto strati e strati ecco di polvere ma fai conto che è come se anche questa persona si stesse capendo un po' di più perché la papessa comunque vedi è anche legata a queste tre carte che avevamo visto prima quando dicevamo quella magia che c'è tra due persone quindi in qualche modo è come se lui sentisse sarebbe un attimo a cambiare le cose tra me e lei è un attimo che possono cambiare perché non sono cambiate come mai quindi intanto ti posso anche dire che in qualche modo vedi qua abbiamo qualcuno che sta lavorando un metallo no sta forgiando sta coniando sta coniando qualcosa questo conio ha a che fare con il dieci di pentacoli sono anche tuoni in qualche modo che si vedono qui tuoni e fulmini quindi attraverso proprio le tempeste emozionali che questa persona sta attraversando come se si stesse coniando dentro di sé una nuova moneta che è l'amore o l'amore legato a un amore costruttivo legato alla alla casa un amore diciamo ecco di maggiore valore di maggiore valore anche se si può dire così diciamo l'aspetto egoico che è rimasto nel cuore di questa persona è che come dire ecco ne vale la pena solo se mi sento sicuro che veramente questa persona come dire è quella per la serie finché morte non ci separi se no ce ne faccio anche a meno i sentimenti ci sono se te lo stai chiedendo è un po' complicato a volte descrivere certe sfumature perché è una persona complicata questa qui o perlome potrebbe sembrare complicata i sentimenti ci sono e questa persona ti sta negando molto li nega anche a se stessa proprio per difendersi attualmente qua abbiamo un 5 di spade cosa fa questo non fa niente abbiamo il 10 di spade non fa niente si vittimizza tutto al più si sente sfortunato sente che prova una benevolenza nei tuoi confronti però è come se non si sentisse ricambiato quindi questo in qualche modo si è convinto del fatto che se tu non hai fatto niente perché non provi niente se l'è voluta raccontare così proprio perché ripeto alla base di tutto ci sta questo bambino che veniva trattato come una valigia ok quindi il 5 di spade parla proprio di questo senso di sconfitta di un amore che è interessato di un amore che è per interesse non perché c'è l'amore puro autentico ok quindi dice vabbè forse a questa veramente non gli interessa niente direi che anche una certa aridità che può avere mostrato questa persona nei tuoi confronti proprio dipende da questo da questo che è molto sulla difensiva questa persona ma magari al momento in cui si tranquillizza anche per esperienze che può avere avuto nel suo passato la mamma ha un'ex moglie ma appena questa persona diciamo ha le sue sicurezze in realtà ci mette il cuore vado a bere un po' d'acqua mi si è seccata la gola vediamo con questo oracolo cosa ti suggeriscono gli angeli del cuore vediamo se esce da sola perché sarei felicissima uscisse da sola una carta che ci dica cosa possiamo suggerire ai nostri amici allora matrimonio questa situazione include ecco il matrimonio attenzione non significa che c'è il matrimonio tra voi due potrebbe anche significare che dipende da questa situazione pregressa vediamo un'altra carta che chiarisce ok ne escono due guarda un po' allora qui abbiamo l'anima gemella sì questa persona è proprio la tua anima gemella anima gemella o anche fiamma gemella perché in questo caso non non c'è la carta fiamma gemella e poi pensa con ottimismo alla tua vita amorosa perché pensare positivo avere fiducia ti porterà ecco l'amore va bene quindi ecco io non posso dirti fallo tu il primo passo ma in qualche modo le carte lo stanno palesando lo stanno palesando ad essere più ottimista nei confronti di questa persona magari tante volte non ha le caratteristiche come dire ecco della persona come la vorresti tu però magari il tempo che si ammorbidisce questa persona che prende le sue sicurezze perché come ti spiegavo prima non parlate lo stesso linguaggio affettivo ok va bene va bene penso che è tutto fatemi sapere come vi risuona io vi ringrazio per essere stati con me vi saluto vi abbraccio vi bacio vi dove ritenete che volete approfondire la cosa perché vi risuona in modo particolare prendete in considerazione l'idea di fare un consulto personale con me o con chi volete vuoi l'importante che sia persona seria affidabile e di fiducia che tante volte risolve proprio la vita o però la vita sentimentale a seconda di quello ovviamente che vi interessa sapere perché qua di questo stiamo parlando e questo almeno secondo me è il miglior consiglio rispetto a magari prendere delle decisioni azzardate che fino ad oggi non avete preso perché non sapevate veramente come stavano le cose dall'altra parte va bene un bacione alla prossima like a chi non dispiace e chi vuole mettere in comune con la propria esperienza o come vi risuona io leggo tutti i commenti un bacione ciao ciao